Al tavolo c'erano veramente tutti, quindi grande soddisfazione per essere riusciti insieme ai costruimenti del lavoro a riunire tutte le forze importanti della provincia per un progetto ambizioso, per un progetto pilota, per un progetto che potrebbe anche dare dei risultati da un punto di vista economico fondamentali, significativi nella provincia. La firma dei due accordi di oggi vuole raggiungere un duplice obiettivo, lo sviluppo della cultura del welfare presso le aziende del territorio e attuare una crescita economica del nostro territorio attraverso la conoscenza maggiore dei servizi e delle attività che sono presenti nella nostra provincia, anche attraverso lo strumento del marketing sociale, anche con delle app che potrà utilizzare ogni singolo cittadino dal proprio smartphone. Inoltre, cosa molto importante, ci saranno comunque degli sportelli informativi, dei welfare point che consentiranno di fornire tutte le informazioni ai cittadini, alle aziende, affinché appunto il progetto possa raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.